Buongiorno, ben trovati, siamo nell'ambito della conferenza nazionale di statistica, la quattordicesima conferenza nazionale di statistica, il titolo di quest'anno è un moderno ecosistema dei dati per una ripartenza inclusiva e sostenibile. Nell'ambito della conferenza sono previsti tutta una serie di filoni diciamo tematici, noi siamo nello spazio innovazione e progetti ed in particolare parleremo appunto del digitale sostenibile, quali scenari e quali considerazioni. Mi presento, sono il direttore centrale per le tecnologie informatiche di Istat, Massimo Fedeli, abbiamo con noi Stefano Epifani, dal quale do un benvenuto e un saluto e ti ringrazio per aver accettato il nostro il nostro invito. Grazie a voi per l'invito. Stefano Epifani è tra l'altro oltre che insomma anche un grande amico con il quale insomma affrontiamo queste tematiche già da qualche mese diciamo per usare un modo così leggero. Stefano Epifani è presidente della fondazione per la sostenibilità digitale, docente di internet studies in Sapienza dal 2009, dirige Tech Economy 2030, primo portale italiano dedicato alla tecnologia per la sostenibilità. Ha lavorato per dieci anni in Colombia come advisor per le Nazioni Unite sui temi dell'analisi dell'impatto delle tecnologie sui processi di sviluppo urbano sostenibile ha fatto parte e fa parte tutt'oggi di numerosi tavoli tecnici interistituzionali sul ruolo delle tecnologie nei loro impatti sulla società. Il suo ultimo libro è Sostenibilità digitale perché la sostenibilità non può fare a meno della trasformazione digitale quindi chi meglio di lui ci può introdurre al tema del digitale sostenibile. Noi abbiamo molto discusso, tra l'altro Stefano Epifani fa parte del nostro comitato scientifico per questa edizione della conferenza nazionale, abbiamo molto discusso come equilibrare i vari temi da inserire all'interno delle due giorni e quindi abbiamo appunto veramente il piacere di averlo con noi e diciamo io partirei subito Stefano di essere d'accordo nell'introdurre appunto questo concetto di digitale sostenibile, spieghiamolo perché insomma ai più può essere diciamo un concetto che rimane ancora un po' così fumoso, in realtà insomma c'è dietro veramente molto e quindi ti chiederei intanto di introdurci a questa tematica proprio anche facendo tesoro, io ho letto il libro veramente una pietra miliare da questo punto di vista e quindi insomma dacci un po' il tuo punto di vista su queste tematiche. Sì beh io direi che utilizzando un approccio forse un po' troppo semplificatorio ma penso abbastanza efficace, parlare di sostenibilità senza parlare di digitale vuol dire di fatto parlare di una sorta di decrescita felice che è senz'altro un modello molto romantico e divertente ma del tutto inapplicabile su vasta scala. Quello di cui noi abbiamo bisogno non è una decrescita ma una diversa crescita che è una cosa profondamente profondamente diversa. In questo contesto ci sono una serie di motivi per i quali il digitale e la sostenibilità non sono come le definisce la comunità europea le due rivoluzioni gemelle ma sono di fatto due aspetti inestricabilmente condivisi quindi se proprio dovessimo definirle rivoluzioni gemelle le twin revolution come appunto vengono definite in ambito e beh dovrebbero essere del dei dei gemelli omo zigati o per non dire addirittura gemelli siamesi. Ecco per quale motivo perché se noi guardiamo le caratteristiche della sostenibilità emergono alcune caratteristiche e le caratteristiche con le quali dobbiamo fare i conti che ci piaccia o meno sono almeno quattro e sono la sistemica perché la sostenibilità è un problema di sistema nella misura in cui agendo su una delle leve delle quali è composta si modificano anche le altre quindi ogni volta che noi agiamo in un ambito abbiamo ripercussioni anche molto forti su tutti gli altri e gli ambiti tradizionalmente identificati nella sostenibilità sono almeno tre la sostenibilità ambientale della quale molto si parla la sostenibilità economica e la sostenibilità sociale delle quali si parla un po' meno ma sono parimenti importanti anzi ecco quindi che abbiamo un tema di sistemica abbiamo un tema che non è solo di sistemica ma il sistema della sostenibilità è un sistema complesso quindi dobbiamo guardare anche al tema della complessità cosa vuol dire sistema complesso vuol dire che non solo come nei sistemi ogni volta che agiamo su una leva tocchiamo le altre le altre ma vuol dire pure che le regole che collegano i sistemi di azione e retroazione tra in questo caso ambiente economia e società non le conosciamo tutte e quindi in qualche modo nei sistemi complessi noi non siamo in grado di descrivere a priori tutte le correlazioni tra le nostre azioni e le nostre reazioni tanto per semplificare in un sistema complesso il meccanismo azione reazione non funziona perché ad azione corrisponde una serie di inferenze alle quali poi corrisponde alla fine una reazione ecco quindi che abbiamo introdotto il terzo concetto l'inferenzialità l'inferenzialità cosa ci insegna ci insegna che quando agiamo sui sistemi complessi l'approccio può deve essere inferenziale cioè più che poter prevedere quello che succederà possiamo analizzare quello che sta succedendo attraverso la una una serie di strumenti di lettura della realtà che ci consentono di identificare dei pattern di ricorrenza quindi sostanzialmente stiamo parlando di statistica inferenziale per 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 declinarlo nel in maniera puntuale e quindi l'inferenzialità è una terza caratteristica ora visto che la sostenibilità è un tema che riguarda da vicino la politica la società che tipo di politiche che tipo di polisi pubbliche si possono attuare per la gestione di un sistema inferenziale complesso necessariamente non possiamo basarci su modelli predittivi quindi non possiamo immaginare politiche pubbliche che sappiano esattamente quello che succederà nei prossimi vent' anni ma dobbiamo ragionare in ottica adattiva cioè dobbiamo lavorare sapendo che mentre stiamo lavorando il terreno ci cambierà da sotto i piedi se non bastasse la dimensione teorica dei sistemi complessi per comprenderlo a ricordarlo ci sono gli ultimi due anni di covid che è stato il classico cigno nero che ha rivoluzionato il contesto ma rispetto al quale dobbiamo identificare delle strategie di azione per gestire la situazione utilizzando criteri di sostenibilità e questa è la parte della sostenibilità perché il digitale è sostanzialmente inestricabile perché se invece di ragionare in termini di sostenibilità fossimo stati in un'aula di sistemi informativi chiunque avrebbe notato che sistemica complessità inferenzialità e adattività sono le quattro caratteristiche sulle quali si basa l'intelligenza artificiale tanto per dirne una in altri termini la flessibilità richiesta dalla necessità di gestire con sistemi complessi richiede soluzioni che siano basate sull'information technology che riducano la complicatezza non la complessità per l'essere umano e questa cosa vuol dire per esempio che non ha senso parlare di sostenibilità se non si guarda come la tecnologia può abilitarla facciamo un po di esempi non ha senso parlare di transizione energetica se non si parla di smart grid e smart grid altro non è se non l'utilizzo di modelli informatici alla gestione di una rete energetica non si può parlare di economia circolare se non si parla di piattaforme di infrastrutture per l'economia circolare il che vuol dire al di là della scelta di metodo e tecnica adottata vuol dire tanta information technology per rendere circolari le filiere del valore e questo vuol dire la capacità e la necessità di tracciare e monitorare i passaggi tra gli attori della filiera vuol dire misurare questi passaggi vuol dire comprendere quello che sta succedendo e creare un'infrastruttura che renda applicabili alcuni modelli che altrimenti sarebbero del tutto teorici vuol dire parlare di sostenibilità vuol dire parlare di strumenti di supporto nelle fasi di emergenza della nostra crisi e quindi vuol dire necessariamente parlare di strumenti come la teledattica e il telelavoro come il commercio elettronico come lo smart working tutte cose che se non ci fosse stata la tecnologia ci avrebbero fatto passare gli ultimi due anni forse un po' peggiori di come li abbiamo effettivamente passati ci ho detto potremmo averli passati meglio indubbiamente ma questo vuol dire capire come guardare alla tecnologia in un'ottica di sostenibilità e quindi e con questo chiudo sperando di aver risposto alla domanda sostenibilità digitale vuol dire sostanzialmente due cose da una parte comprendere come si può utilizzare la digitalizzazione gli strumenti che essa mette a disposizione le tecnologie delle quali ci troviamo a dover comprendere le implicazioni dall'intelligenza artificiale big data da blockchain alla realtà virtuale aumentata che ci consente di immaginare i metaversi e quant'altro quindi come utilizzare questi strumenti per perseguire gli obiettivi di sostenibilità di agenda 20 30 ma contemporaneamente vuol dire visto che siamo in un sistema sociotecnico vuol dire comprendere come utilizzare i criteri di sostenibilità per indirizzare lo sviluppo tecnologico in una dimensione in cui sostenibilità e tecnologia quindi sono inestricabilmente connesse e la sostenibilità digitale rappresenta il quarto pillar il quarto ecosistema tra sostenibilità economica sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale grazie veramente veramente molto molto comprensibile e devo dire molto esaustivo no anche nella spiegazione allora tra l'altro come ho detto un po' nell'introduzione Stefano è anche presidente della fondazione per la sostenibilità digitale tra l'altro l'istat proprio perché sta sviluppando nuove indagini sul tema del digitale ha già diciamo avviato dei lavori per stringere un rapporto di collaborazione molto stretto con la fondazione che insomma è preseduta appunto da Stefano e speriamo appunto di mettere in campo delle azioni di ricerca su queste tematiche insomma da qui a breve eh per dare anche delle risposte no perché molto spesso c'è bisogno appunto di di misurare c'è bisogno di 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 calcolare è parlato giustamente di modelli prediettivi e modelli soprattutto adattivi che saranno quelli che ci abiliteranno ma questi richiedono appunto delle misure costanti e delle capacità anche di di analisi mh da mettere in campo no quindi da questo punto di vista eh ovviamente ci aspettiamo molto da questa collaborazione come istituto nazionale di statistica che comunque è un istituto di ricerca e quindi eh è alla continua di ricerca di eccellenze come appunto la fondazione eh per la sostenibilità digitale che eh appunto può darci un contributo su questo tematismo veramente determinante e a questo punto ti chiederei Stefano magari se possiamo approfondire un po' ehm questa tematica della misura no? Stamattina anche il ministro Brunetta ci ha ci ha ricordato il vecchio saggio che eh se non si può misurare non si può migliorare no? Quindi anche interventi sul sostenibile nell'ambito del digitale probabilmente hanno bisogno di misure hanno bisogno di di un di un apporto costante di informazioni eh quindi mh parlaci un pochino di questo tema visto che comunque siamo eh nell'ambito della conferenza nazionale statistica quindi abbiamo anche degli interlocutori che ci seguono che sono molto molto tecnici. Sì intanto grazie per le parole che hai eh che hai speso per per la fondazione e per gli obiettivi sfidanti che eh in qualche modo ci ci aspettano. Ecco è evidente come oggi ci sia una necessità enorme di eh misurazione. Io partirei da una considerazione. Noi abbiamo vissuto gli ultimi due anni qualcuno li ha definiti gli anni dell'infodemia cioè questa non abbiamo solo avuto una pandemia ma anche un'infodemia. Cosa è successo? È successo che noi confondiamo troppo spesso la eh con il termine complessità con il termine complicazione e il termine semplicità con il termine semplicistica e quindi noi abbiamo guardato a una situazione complessa che era necessario leggere in modo semplice attraverso chiavi di lettura semplice l'abbiamo trasformato in una situazione complicata alla quale abbiamo cercato di dare risposte semplicistiche tramite un ecosistema informativo che è diventato del tutto schizofrenco e quindi abbiamo vissuto eh come dire le prime fasi della pandemia agganciati alla televisione in attesa della conta quotidiana delle eh delle vittime. Abbiamo vissuto i primi mesi agganciati a informazioni che spesso erano frammentari e provvisorie. Ci siamo appoggiati a eh modelli che gioco forza dovevano ancora essere in qualche modo eh compresi. Ma quello che è successo con la pandemia è un po' la come dire la metafora con eh compressa in in pochi mesi di quello che negli ultimi anni sta succedendo nella nostra società cioè servono chiavi di lettura e per avere chiavi di lettura è indispensabile comprendere cosa misurarlo e come misurarlo ma ancor prima di avere risposte dalla statistica la cosa importante è che la statistica ci aiuti insieme alla sociologia insieme all'economia a comprendere come porci le domande perché eh talvolta non sono le risposte ad essere sbagliate sono le domande ad essere malposte e questo succede moltissimo proprio lo abbiamo visto in questi anni con con gli impatti della tecnologia sulla sostenibilità perché eh prendo spunto da quello che è successo con con la pandemia con temi come il telelavoro piuttosto che la didattica a distanza noi abbiamo ridotto il ragionamento attorno alla complessità di una situazione davvero articolata ad analizzare a la tecnologia digitale per fare didattica o per fare lavoro a distanza è buono o cattiva il telelavoro è bello brutto lo smart working fa bene o fa male la la didattica a distanza è meglio e peggio sono tutte domande sbagliate e il problema è che se noi partiamo dalle domande sbagliate identificheremo degli indicatori sbagliati che produrranno risposte sbagliate e se invece cominciamo a chiederci come facciamo per costruire ecosistemi informativi e digitali che consentano lo sviluppo di modelli sostenibili dal punto di vista ambientale economico e sociale a questo punto forse riusciamo a porre la quadra della situazione in una direzione che ci consenta di lavorare di indicatori anche indicatori statistici che ci consentano di avere una lettura dei fatti e in funzione di questa lettura una possibilità di comprensione di quello che sta succedendo perché purtroppo quello che sfugge è che quanto più aumenta la velocità di veicolazione dell'informazione all'interno della società e noi sappiamo che oggi la velocità di veicolazione dell'informazione con i social con gli smartphone con tutti gli strumenti dei quali disponiamo è tale da non essere mai stata eguagliabile in nessun'altra era della storia dell'uomo ecco con questa velocità aumenta tantissimo la necessità di letture complesse e per avere letture complesse noi abbiamo bisogno di una base di conoscenze che in questo momento ce lo dice non soltanto non ce lo dice soltanto il desi ma ce lo dicono tutti quanti gli indicatori dell'oxe gli italiani sono profondamente impreparati noi siamo impreparati a gestire la complessità dei come dire necessaria per interpretare quello che sta succedendo e questo vuol dire due cose vuol dire che in primo luogo dobbiamo formare le persone a una cultura del dato in secondo luogo dobbiamo stare molto attenti quando i dati li spieghiamo li illustriamo li raccontiamo perché dobbiamo farlo pensando al fatto che lo si sta facendo a persone che non sono abituate a gestirli e questa è una sfida nella sfida in qualche modo perché non soltanto si trasforma in dare dati corretti ma anche darli nel modo corretto e questa forse la sfida più grande che ci tocca gestire ci tocca gestire oggi la frase più detta durante la pandemia è il microfono bravo a questo punto io direi che possiamo portare magari proprio un'esperienza diretta no della della fondazione un'indagine che avete condotto e anche perché così portiamo un po' di numeri un po' di dati no a questa conferenza e voi avete condotto un'indagine veramente molto molto interessante quindi ti vorrei chiedere di parlarne un attimino che è appunto una valutazione di quanto pesi nelle scelte che facciamo appunto nel scegliere servizi tecnologia digitale quanto diciamo per noi conti noi diciamo comuni cittadini conti poi il tema della sostenibilità quanto pesa no questa è una cosa che veramente ci interessa molto noi come come fondazione ci siamo interrogati sulla prima domanda su quella che per noi era la domanda un po' quella che poi diede come risposta 42 ma quella è un altro film la domanda dalla quale tutto nasce cioè quali sono le relazioni percepite tra il concetto di tecnologia e il concetto di sostenibilità da parte dei cittadini italiani e qual è la percezione del concetto di sostenibilità da parte dei nostri concittadini e le risposte che sono emerse non sono esattamente confortanti perché mentre c'è una percezione di in termini di autovalutazione di forte conoscenza dei temi collegati alla sostenibilità ci rendiamo conto che andando a fare domande un po' più ficcanti andando a analizzare le risposte emerge una situazione parecchio confusa vi do qualche vi do qualche indicazione ad esempio noi abbiamo ormai più di tre quarti dei cittadini italiani che ritengono che cambiamento climatico e inquinamento siano problemi prioritari il che può essere letto in due modi o in maniera ottimistica cioè tre italiani su quattro hanno capito che non abbiamo più tempo per rimandare la crisi climatica e i problemi di inquinamento oppure in maniera pessimistica cioè ancora un italiano su quattro non ha capito che è un problema grosso ora al netto del fatto che talvolta si dice che gli ottimisti sono quelli che pensano di sapere come va il mondo e i pessimisti sono quelli che lo sanno da questo dato partiamo per fare un po' di analisi perché se andiamo a chiederci quanti di questi abbiano poi comportamenti coerenti rispetto a questa consapevolezza escono dati divertenti perché divertenti per modo di dire ed è un ed è un eufemismo perché la maggior parte delle persone alle quali andiamo a chiedere qual è il ruolo della sostenibilità nella loro vita in realtà non riesce a correlare le conseguenze pratiche delle scelte ideologiche cioè la sostenibilità può essere declinata in tantissimi modi il fatto è che in funzione di come la declino ha delle conseguenze operative che implicano il modo in cui io viva la mia vita ecco tanto per darvi un'idea il 65 per cento degli italiani non è in grado di creare una correlazione lineare tra quelle che sono le convinzioni circa le priorità i comportamenti che si dovrebbero avere come dire la dimensione ideologica della sostenibilità e invece i comportamenti agiti cioè tutta questa convinzione ideologica cosa dovrebbe portare e questo implica il fatto che c'è uno gigantesco problema di cultura in questo problema di cultura della sostenibilità come entra la tecnologia anche in questo caso entra in maniera abbastanza interessante perché se noi ci limitiamo a chiedere se le persone pensano che rispetto alla sostenibilità la tecnologia sia un'opportunità o una minaccia la risposta è quasi plebiscitaria nel senso che il 92 per cento delle persone ci dice che la tecnologia è un'opportunità se però andiamo ad analizzare in maniera un po più interessante il dato vediamo che in realtà se andiamo a chiedere differenziando tra coloro i quali ritengono che la tecnologia sia una grande opportunità per l'essere umano un'opportunità per l'essere umano della quale dobbiamo comprendere anche i rischi una minaccia per le persone della quale dobbiamo comprendere anche le opportunità o soltanto una minaccia il dato si frammenta molto e quindi paradossalmente abbiamo un 1 1.9 per cento degli intervistati che ritiene che la tecnologia sia una minaccia punto e basta la grande la stragrande maggior parte degli intervistati il 70.9 per cento degli intervistati il 71 per cento degli intervistati ci dice che la tecnologia è una opportunità della quale dobbiamo comprendere anche i rischi il che francamente anche una posizione sana rispetto alla tecnologia il problema qual è è che se poi andiamo ad analizzare qual è al di là della visione ideologica il percepito quindi quello che è in qualche modo potremmo definire il sentimento di pancia delle persone se andiamo a chiedere alle persone secondo lei la tecnologia è fonte di perdita di posti di lavoro disagio sociale problemi e inquinamento allora il problema è che il 78 per cento degli intervistati si dice d'accordo molto d'accordo con questa osservazione quindi in realtà se da una parte è come dire difficile rispondere la tecnologia brutta e cattiva alla domanda secca quando andiamo a approfondire il dato vediamo che le persone sono molto spaventate della tecnologia arriviamo al tema della sostenibilità queste posizioni diventano tanto più estreme quanto più ci si avvicina alle posizioni che potremmo definire dell'estremismo ambientalista o dell'ambientalismo radicale per intenderci i no 5g no qualsiasi cosa e questo esprime una diffidenza strutturale verso la tecnologia che potrebbe essere strumento di sostenibilità proprio da parte di quella fascia di persone che potrebbe trovare nella tecnologia uno strumento per perseguire gli ideali che dice riprofessare e questo è un controsenso che per esempio emerge platealmente quando si parla di mobilità perché ad esempio abbiamo una differenza di 18 punti percentuali tra coloro i quali utilizzano strumenti di mobilità condivisa e verde e sono orientati a pensare che la tecnologia che l'ambiente non sia una priorità e quelli che invece pensano che l'ambiente sia una priorità ma in che modo al contrario cioè il fatto che la sharing mobility passa da strumenti di questo tipo non si vede da strumenti come lo smartphone fa sì che proprio quelle persone che professano la vicinanza agli ideali di sostenibilità ambientale che sono supportati dalla sharing mobility siano più lontane da questi strumenti quindi questo fatto crea delle contraddizioni forti e queste contraddizioni vanno risolte altrimenti non c'è politica energetica politica industriale che tenga perché è vero che la sostenibilità dipende moltissimo dalla capacità delle istituzioni e delle grandi aziende di fare la loro parte ma dobbiamo anche partire dall'assunto per il quale la sostenibilità è anche e soprattutto una scelta che dipende dai comportamenti individuali di milioni di persone che potranno fare o non fare la raccolta differenziata stare o non stare attenti ai consumi energetici scegliere o non scegliere prodotti sostenibili attuare o non attuare comportamenti sostenibili e ad oggi purtroppo siamo nella condizione per la quale utilizzando una definizione molto poco accademica sono tutti sostenibili con le missioni degli altri tutti quanti pensiamo che la sostenibilità nella quale crediamo profondamente sia qualcosa che debba risolvere qualcun altro e questo è francamente non solo inaccettabile ma anche estremamente pericoloso per perseguire gli obiettivi già di per sé estremamente sfidanti dell'agenda venti trenta che non raggiungeremo mai per il duemilatrenta ma sarebbe già interessante raggiungere per qualche anno dopo insomma ecco ottimo grazie grazie veramente anche per i dati che ci hai portato di queste indagini molto molto interessanti devo dire diciamo che questo intervento è un po' un esempio di quello della trasformazione in atto anche da qualche tempo in istat proprio avvicinarci a dei tematismi dei tematismi insomma eh importanti che stanno catalizzando un po' l'attenzione no? Del dell'opinione pubblica è fondamentale per l'istituto proprio per avvicinarci a quelli che sono poi le aspettative dei nostri stakeholder e quindi avere anche eh questi interventi così eh diciamo eh importanti e tematici su alcune eh su alcune delle tematiche che sono appunto per per la maggiore è fondamentale per l'istituto questo fa parte un po' di quella che è la modalità eh di eh contatto di ricerca continua eh di eh di appunto di collaborazione a valore e che eh sicuramente porterà dei risultati io eh ringrazio veramente Stefano Epifani per questo intervento che eh insomma a mio avviso ho dato già eh tutta una serie di eh spunti che sicuramente troveranno approfondimenti anche nel nei prossimi mesi come come dicevo appunto ci stiamo apprestando a lanciare eh nuove analisi, nuove indagini che sicuramente avranno questi aspetti eh sempre più diciamo enfatizzati eh già in passato l'istituto ha fatto delle delle indagini su questi aspetti però insomma saranno sempre più mirati e più indirizzati quindi ringrazio nuovamente eh Stefano Epifani per questo intervento e ti lascio due minuti se vuoi fare qualche conclusione Stefano. No io mi limito a ringraziare te e tutti coloro i quali sono stati collegati ad ascoltarci ecco io l'unica cosa che vorrei evidenziare è come ci sia oggi davvero una grande necessità di comprendere i fenomeni e per comprendere i fenomeni dobbiamo poterli misurare per poterli misurare abbiamo bisogno di eh competenze specifiche e la sfida non è soltanto tecnico tecnologica ma è soprattutto una sfida una sfida culturale perché oggi non soltanto abbiamo bisogno di strumenti nuovi ma abbiamo bisogno anche di nuovi strumenti per comunicarle le eh le informazioni che riguardano la nostra società. Ok grazie grazie ancora. Grazie un saluto a tutti a tutte le persone che ci hanno seguito ho visto numerose eh quindi ringrazio a tutti per l'attenzione grazie a tutti a tutti a tutti a